Tre date in Puglia per riproporre dal vivo il tema di Arcadia, il più classico dei soggetti artistici che rimandano alla cultura ellenica. Dopo il concerto di Corato è toccato a Trani ospitare l'Accademia Amsterdam, formazione olandese di musica antica, con particolare predilezione per le partiture barocche e classiche più in generale. L'ensemble, fondato nel 1990 nei Paesi Bassi dall'oboista Onno Fershore, mette insieme sezioni di archi e di fiati per riproporre un repertorio che spazia dalla musica da camera agli oratori, spesso miscelato a pezzi di composizioni etniche di stampo più moderno. Per i concerti pugliesi, l'ultimo dei quali in programma questa sera alla Cittadella degli Artisti di Molfet, l'Accademia Amsterdam ha scelto un programma di sala che comprende musiche di Scarlatti, Handel, Mancini e Gasparini, ispirate all'Arcadia di Pan, luogo mitico nel Peloponneso, deserta e vergine casa del Dio dei Boschi e della sua corte di Dria, di ninfe e spiriti della natura, con brani cantati che si riferiscono a questa particolare pagina della mitologia antica, tra le note morbide e suadenti di violoncelli barocchi, clavicembali, flauti e violini. Grazie a tutti.